Primo obiettivo, la ripresa in toto delle attività del Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna Centrale e quanto è emerso questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo corso di Uninuoro dopo il passaggio da Consorzio a Fondazione alla presenza tra gli altri dell'amministratore straordinario della provincia Costantino Tidu del capogruppo regionale Lega Pierluigi Saiu, del capogruppo regionale del PSDAS Francesco Mula e del nuovo commissario liquidatore Giovanni Pinna Parpaglia che dovrà completare nei prossimi sei mesi la transizione dell'università a Fondazione Oggi è ripartita l'università quindi si assicureranno tutti i servizi essenziali dopodiché sarà compito del commissario stabilire il programma e i tempi per riattivare tutto ciò che in questi giorni è stato sospeso La fondazione conserva la partecipazione del Comune di Nuoro la allarga alla regione e all'università di Cagliari e di Sassari è un'opportunità che dobbiamo cogliere senza guardare al passato e alla difesa di un piccolo consorzio a gestione comunale E ha destato stupore nel corso della conferenza stampa l'assenza di un rappresentante del Comune di Nuoro che ha intenzione di impugnare la norma regionale che stabilisce la trasformazione in fondazione della Biblioteca SATA e dell'università di Nuoro L'intento era quello di formalizzare le cose che sono state fatte in questi giorni naturalmente da parte della regione e da parte del commissario diciamo che si sta procedendo in maniera spedita c'era un impegno di riaprire immediatamente l'università ci troviamo nella difficoltà e oggi lo posso dire anche in maniera molto chiara nella non disponibilità da parte del Comune di mettere a disposizione non solo le risorse di tipo umane che aveva promesso